Buon sabato mattina, ben ritrovati per Occhio ai Giornali, la rassegna stampa di Fano TV Siamo qui nella nostra postazione del touchscreen con le pagine, i pdf scaricati, pronti per farveli vedere Ma naturalmente facciamo sempre le cose con ordine, guardiamo il santo del giorno e poi le previsioni del tempo Oggi è sabato 17 giugno, San Ranieri di Pisa, il sole è sorto alle 5.25 e tramonterà alle 20.53 Previsioni del tempo, partiamo da quelle di oggi, di sabato, anche oggi una giornata impegnativa dal punto di vista delle temperature Perché arriveremo a punto di 28-29 gradi nelle ore centrali della giornata E quindi il cielo si presenta irregolarmente nuvoloso però in mattinata con alternanza di schiarite Nubi cumuliformi e copertura però in diminuzione nella tarda mattinata Le precipitazioni sono presenti come vedete anche dalla simbologia Temporali sparsi nella prima parte della giornata che però in esaurimento andranno lungo la costa Nel primo pomeriggio temperature in diminuzione, valori massimi ma lievi in aumento, le minime Per domenica sereno, poco nuvoloso, vedete anche il sole pieno sulla costa, temperature in diminuzione Eventi settentrionari, di brezza tesa, mare mosso con progressiva diminuzione La giornata di lunedì si presenta con un sole pieno su tutta la regione Quindi sereno, poco nuvoloso, nessuna precipitazione ma aumentano i valori massimi delle temperature Quindi insomma ancora giornate impegnative quindi mi raccomando soprattutto gli anziani Nelle ore centrali della giornata se possibile non uscite E dopo vedremo che c'è anche un'iniziativa per loro che è riportata nelle pagine dei quotidiani Partiamo dal Corriere Adriatico, vediamo come apre, qual è la fotonotizia che porta in evidenza Si parla di cantonieri pagati per non lavorare Nel passaggio di provincia ad Anas è saltato il contratto Coinvolti 42 dipendenti E poi una notizia che accomuna tutti e due i quotidiani L'arresto del direttore delle entrate per tangenti Arriva fino a Pesaro, l'inchiesta di Venezia in carcere Elio Borrelli Fisco regali per sconti e multe Poi Vezzali e Forza Italia l'ultima tentazione Si parla di politica E domani a Camazza 7 l'addio a Giacomo Guidi Eccolo qui l'articolo che lo riguarda In una serie di scatti il più famoso dei quali tutti lo ricorderanno E questo con Muhammad Ali Grande fotografo Giacomo Angelo Senzatempo una città ma non solo la città di Urbino Sotto shock per la tragedia che ha colpito la famiglia Guidi Un legame strettissimo con la città Questa mattina i funerali a San Paterniano nel borgo di Camazza 7 Schieti in lutto e naturalmente niente palio Il palio dei trampoli è stato sospeso In segno di lutto e di rispetto per la famiglia L'altra pagina del Corriere Adriatico di Pesaro Però che parla di cronaca Parla lo zio e dice Il nono del piccolo Francesco Ascoltato appunto dall'ordine dei medici Mi aspetto che Mecozzi venga subito sospeso Questa è la sua volontà Perché dicono, hanno dichiarato anche i nostri microfoni Tutto quello che è accaduto alla nostra famiglia E al piccolo Francesco Bonifazi Che vedete qui in una foto Non accada più Ogni giorno vado al cimitero a trovare mio nipote Non sono riuscito a proteggerlo L'inchiesta va avanti Intanto quella dell'ordine dei medici Saluti e diritti Il comitato ascoltato in Senato Ha esposto perplessità sul decreto Lorenzino Sull'obbligo vaccinale Ancora una giornata impegnativa Quella di ieri dal punto di vista della viabilità Del traffico Incidenti su tutto il territorio provinciale Viabilità pazza appunto Titola il Corriere Adriatico Due carambole Un frontale Diversi feriti Quasi un bollettino di guerra Nell'arco delle 24 ore Vedete qui nelle foto I mezzi coinvolti Come sono stati Insomma Fortemente danneggiati E quindi insomma Se gli occupanti Lo possono ancora raccontare Possono dirsi sicuramente Dei fortunati Andiamo a Urbino Per il rogo del bar Del bar di 100 vetrine A Morciola Trovato il liquido Benzina o alcol Per dare fuoco Quindi confermato Il dolo delle fiamme Vedete l'esterno del bar Come era ridotto Dopo l'incendio Dopo il rogo Andiamo a Fano Con le pagine del Corriere Adriatico Si parla di solidarietà Dicevamo appunto L'estate degli anziani Con il calore E le temperature alte Attenzione Fate attenzione Anziani soli Anziani che non hanno Una vita facile Dal punto di vista Della dimbulazione Ci sono delle persone Che si prenderanno cura di loro Come ogni anno Estate sicura Vedete le associazioni Qui insieme All'assessore Barinesi E al sindaco Seri Che hanno firmato Questa convenzione Oltre alla protezione civile Che naturalmente Ormai è Un asset centrale Di questa operazione Per gli anziani Novantenne caduta in casa Salvata dopo Oltre 20 ore Non è un fatto di cronaca Degli ultime ore Ma è praticamente Accaduto Diverso tempo fa E un volontario Grazie al loro intervento Hanno salvato Questa signora Che giaceva Immobile Sul pavimento Da oltre 20 ore Lucida Chiaramente Perché diceva Che rispondeva al telefono Però insomma Non Non era in grado Di alzarsi Ve lo raccontammo Anche noi A suo tempo Quando fu Appunto Che venne fuori Questo aspetto Piacevole Per Insomma Naturalmente Il risvolto Positivo Che ha avuto Questa vicenda Invece Questo è un fatto di cronaca Avvenuto Nella notte scorsa Una tabaccheria Svuotata Un colpo Da professionisti In via Sauro Portano via Tanta roba Franco Bolli Accendini Grattini In gente Il bottino 25 mila euro E anche il Borsello Con Iconi Contanti Filippo Tonucci Sgomento Perché dice Non ho mai visto Nulla del genere Turismo in crescita È una polemica Surreale Lo dice L'assessore Marchegiani Che risponde A progetto Fano Evidenza L'incremento Del 7% E anche tutte Le iniziative Che sono state Presentate Ancora Andiamo nella pagina Della Val Cesano I nostri progetti Attuati dalla giunta Barbieri Lucchetti e Silvestrini Rivendicano la primogenitura Delle opere Promosse Dal sindaco Vedete qui I due Interessati E il lungomare Con una ristrutturazione Che ha E con l'eliminazione Di 140 posti Auto È vista come Un A rischio Desertificazione Però Qualcuno Nei giorni scorsi Ha espresso Parere favorevole Per le attività Che si sono svolte In quel sito La priorità Del sindaco È l'emergenza Alla viabilità Siamo nella Val Cesano A terra Rovereschi Antonio Sebastinelli Subito Al lavoro Ha le sue Gatte Da pelare Tra cui appunto La voragine Di Orciano E appunto La viabilità È sicuramente Una delle cose Alle quali Metterà a mano Presto Andiamo a Senigallia Con la pagina Del Corriere Adriatico Concerti in strada Sotto le stelle La nuova vita Del centro storico Eventi bipartisan In via Fratelli Bandiera Gli organizzatori Dicono È l'iniziativa Non penalizza Però alcun Commerciante Faremo Conoscere Questa parte Del centro storico Anche Ai turisti Vedete Senigallia Sicuramente Molto attiva E molto D'appeal Per tanti turisti Per gli eventi Che tiene La pagina Di Pesaro Del resto Del Carlino In testa di pagina Si parla Dell'arrivo Di Gentiloni Che porterà In dote Altri soldi Più che Un'inaugurazione Lunedì L'annuncio Di fondi Per completare La palestra E la piscina Ed ecco Poi la foto Notizia centrale La foto Dell'ex direttore Dell'ufficio Delle entrate Elio Borrelli Arrestato Il direttore Tangenti Per corrispondenza E anche qui Poi riportato Di spalla La tragedia Che ha colpito La famiglia Guidi Ed eccolo qua L'articolo Che riguarda Questo Questo arresto E' stato Accusato Di aver intascato Tangenti Per alleggerire Le verifiche Fiscali La particolarità I presunti Accordi Corruttivi Con imprenditori Ci sarebbero stati Per interposta Persona Ancora Nella pagina Che riguarda Pesaro Ora E' difficile In tribunale Perché La canicola La calura Ha condizionato Tutta l'attività Del tribunale Perché i condizionatori Dell'aria Sono andati In tilt Addirittura Malori Per il caldo Uno è rotto L'altro potrebbe Incendiarsi Finestre chiuse Per esigenze Di sicurezza Servono 30.000 euro La centralina Che regola Il getto E' fuori uso Da anni Utilizzati Senza Controllo E quindi Insomma A rischio La pagina di Fano Del resto Del carlino Giro di vite Su mendicanti E abusivi Multe E allontanamenti Dal centro Vigili molto attenti Il sindaco Dice lo facciamo Da dieci giorni Senza però Proclami Seri Dice rispetto Delle regole E' necessario Non sono possibili Certi assalti Ai cittadini Che vanno Tutelati Il 22 Arriva A teatro Il ministro Minniti Poi di fianco Qui Naturalmente Troviamo L'articolo Dell'estate calda Per gli anziani Quei 100 anziani Sotto controllo Per il loro bene Lauser Filo d'argento Protezione Civile Insomma Tutte le associazioni Che sono attive Da questo punto di vista Hanno presentato Il loro piano Per fronteggiare Questa emergenza Che puntualmente Ogni anno Si presenta Proprio in vista Delle temperature Calde Giorni felici Pochi posti Per il campo Di lavoro Al centro Diocesano Missionario Saranno 50 I ragazzi Che faranno base A Villa Alta Del prelato Per vivere Momenti intensi Di testimonianza E di preghiera Tre momenti Importanti Appunto Il lavoro La formazione La festa In parrocchie Diverse Ogni settimana Tanti giovani E giovanissimi Bene L'ultima pagina Che vi faccio vedere È quella Di Fano Che riguarda Sapori E motori A che Si ripresenta A Sassonia Come ogni anno A luglio L'evento Che coniuga La velocità I motori Il gusto Che compie Un compleanno Importante Sono dieci anni Di questa manifestazione Quindi insomma Dieci anni In cui la manifestazione Ha subito Diverse trasformazioni Questo è un po' Si dice L'anno zero Perché sta diventando Sempre più Un evento sportivo E giovanile La novità Di quest'anno Sarà il Food Plaza Con i track Protagonisti E poi musica E miss Food Plaza Sarebbe La piazza Del cibo Con i camioncini I furgoncini Che fanno Il cibo Da strada E poi L'iniziativa Bellissima Del Caico La regina Isabella Questo splendido Due alberi Che è ancorato Alla Porto Che ospiterà A bordo Gratuitamente Disabili E anziani In un lasso di tempo Di un paio di mesi C'è Un numero di telefono Al quale rivolgersi Quello Dell'assessorato Della Marina Barniesi Di servizio Sociali Ecco Eccolo qui Se volete Le associazioni Che fanno parte Appunto Del mondo Del volontariato Sugli anziani E sui disabili Possono telefonare E mettersi d'accordo Per una gita in barca Qualche ora Qualche ora Di svago Per persone Che magari Non riuscirebbero mai A vedere La costa Dal mare E godere Di una giornata Di una mezza giornata Così Diversa dal solito Grazie per essere stati In nostra compagnia Io mi fermo qui Per l'ultima rassegna Della settimana Tornerà Naturalmente Puntualmente Lunedì mattina Occhio ai giornali Alle 7.30 Buon fine settimana A tutti voi Di una giornata 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 Maia Di una giornata 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 Di una giornata